Il prossimo 17 gennaio potrebbe essere la data decisiva. Potrebbe concretizzarsi il passo avanti più significativo verso la realizzazione della superstrada Ragusa-Catania rimasta in sospeso per decenni tra speranze, proteste ed incertezze. Proprio il 17 gennaio infatti il Cipe darà il via libera definitivo con l'approvazione del progetto che consentirà l'avvio dei lavori da parte della Sark, ovvero la ditta incaricata a realizzare l'opera. Lo hanno comunicato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli. Si tratta di una doppia conferma, infatti da parte di due ministri che dovrebbe lasciare spazio a pochi dubbi. La quadra è stata trovata ieri, durante il vertice romano al quale hanno partecipato i sindaci interessati, i deputati del Movimento 5 Stelle e il governatore Nello Musumeci. Proprio la regione siciliana conferma infatti l'impegno a cofinanziare l'opera con 366 milioni di euro e altri 4 milioni l'anno per abbattere i costi del pedaggio. È stata infatti proprio la tariffa ai caselli, a carico degli automobilisti ad aver bloccato l'iter negli ultimi due anni, tariffe salate dovute a costi elevati per l'opera. Nella riunione dello scorso novembre i sindaci erano riusciti ad ottenere dal concessionario un abbattimento dei costi dal 35 al 50% in base alle categorie di utenti e in determinate fasce orarie. Adesso quindi non resta che attendere il 17 di gennaio, da quel momento la ditta appaltatrice avrà 4 mesi di tempo per avviare i lavori, il tempo invece per la consegna della superstrada è stato fissato in quasi 4 anni.